Sono trascorsi più di tre mesi da quando Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno lasciato Uomini e Donne insieme. Ecco le ultime novità. Il 18 febbraio 2024 andava in onda la puntata di Uomini e Donne durante la quale Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno deciso di uscire dal programma per vivere la loro storia d'amore al di fuori delle telecamere. La frequentazione tra i due è nata con non poche polemiche in studio. Alimentate dal fatto che Alessandro inizialmente preferì Ida Platano proprio a Roberta. Quest'ultima, infatti, rimase scottata dalla questione. Tanto che non subito diede fiducia al cavaliere una volta tornato in studio. Tuttavia dopo aver iniziato di nuovo a frequentarsi, a dispetto di quanti non credevano nella coppia, i due hanno deciso di abbandonare il programma insieme. Di seguito, scopriamo ulteriori sviluppi inediti sulla coppia. Alessandro e Roberta, le ultime novità sulla coppia di Uomini e Donne Da quando Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno lasciato insieme Uomini e Donne, in tantissimi sono curiosi di sapere come va la loro storia d'amore. Entrambi erano presenze fisse nel format di Maria De Filippi. In particolare, la dama di Cassino era presente nel programma dal 2019, ma la sua esperienza era stata purtroppo costellata da delusioni d'amore. Al contrario, Alessandro dopo una breve parentesi nel dating show, aveva lasciato il programma con Ida Platano. Tuttavia la loro storia è finita nel giro di un anno. Tanto che entrambi poi sono tornati nello studio per trovare l'amore. Da quel momento Alessandro ha ripreso a frequentarsi con Roberta e sin da subito è nata una grande complicità. La scelta di abbandonare il programma insieme era stata accompagnata dai dubbi degli opinionisti circa la buona fede di entrambi. Tuttavia, il tempo sembrerebbe dimostrare il contrario. Infatti, la coppia sta vivendo appieno la loro relazione. Entrambi sono molto social e condividono gli attimi della vita quotidiana. Spesso Roberta pubblica Instagram stories in cui riprende Alessandro in casa sua. L'uomo, dal canto suo, mostra Roberta cucinare deliziosi pasti per una serata insieme. Sembrerebbe che l'amore sia sbocciato e che i due si stiano vivendo con serenità la relazione al di fuori del mondo dello spettacolo. La stagione di Uomini e Donne è terminata a fine maggio. Pertanto, per avere ulteriori notizie sulla coppia, occorre aspettare la nuova edizione di settembre oppure rimanere aggiornati sui loro canali social.